dobbiamo tornare nella casa di roma mi mancherà tanto la mia cameretta e anche la scuola perché non potrò vedere i miei migliori amici per un po nella casa di roma però non mi sento mai sola è la grande casa di peter pan la conosci nella grande casa di peter pan raccogliamo i bambini malati di cancro e le loro famiglie perché possono continuare a ridere giocare e vivere oltre la malattia per continuare a essere bambini aiutaci a rimanere al loro fianco donna il tuo 5 per mille a peter pan codice fiscale 97 11 26 90 587 un po' di più